Il Comitato Parco Antenna venerdì scorso ha formalizzato una richiesta di incontro al sindaco Giovanni Ruvolo per rilanciare l'obiettivo di proteggere l'aria dove insiste l'antenna Rai sulla collina Sant'Anna. Salvaguardare l'antenna e promuovere la fruizione pubblica dell'aria, infatti l'intento del Comitato che ancora una volta torna a riaccendere i riflettori su uno dei simboli della città che rischia di scomparire per sempre. Un Comitato nato tre anni fa seguito della notizia della dismissione dell'impianto costituito da tante associazioni tra cui il WWF, la LIPU, Italia Nostra, l'Associazione Radio Amatori Italiani, due istituti superiori della città, il Mutture Lipsia e numerosi cittadini che rivendica l'importanza non solo dell'antenna che con i suoi 286 metri sino al 1965 ha mantenuto il primato della struttura più alta d'Europa e ancora oggi è la terza del continente ma anche la valenza archeologica industriale dell'impianto che oltre a trasmettere in onde radio medie e corte serviva per portare il segnale della radio italiana nei paesi del Mediterraneo e in buona parte dell'Africa. Un esempio di architettura razionalista degli anni 50 e oltre 13 ettari di terreno che potrebbero essere sfruttati per un parco pubblico, una zona di valenza archeologica per i reperti ritrovati che potrebbe rientrare in un percorso turistico collegato a Santo Spirito, al Museo Regionale e all'area di Sabucina. Chiaramente siamo molto preoccupati perché abbiamo visto che la RAI ha pubblicato il bando per lo smontaggio e la rimozione dell'antenna e quindi è chiaro che le sue intenzioni sono inequivocabili nonostante la stessa RAI apprezzi moltissimo questo suo bene e noi veramente ci auguriamo che possa invece collaborare per un'acquisizione dell'area da parte di enti pubblici in prima lina il comune di Caltanissetta ma riteniamo che anche sponsor privati possono essere interessati ad avere una partecipazione eventualmente in questo acquisto perché un museo che noi riteniamo possa essere in modo ottimale collocato presso questi locali e un parco pubblico possono essere un richiamo di grande interesse anche per le aziende private. Noi ci auguriamo che il Sindaco ci chiami il prima possibile illustreremo le nostre proposte al Sindaco e speriamo vivamente che si possa divenire prima di tutto al vincolo attraverso il piano regolatore della zona per evitare qualsiasi pericolo di lottizzazione e di sfruttamento selvaggio dell'area e poi anche all'acquisto dell'area da parte del comune magari, ripeto, con la partecipazione anche di entità private, di imprenditori, banche o altri imprenditori che già sappiamo essere interessati eventualmente a questa operazione.